Dove ti immagini partorire? Sì, avete capito bene, dove ti immagini partorire? E con questa domanda non mi riferisco semplicemente al luogo fisico, ovvero partorirò in ospedale, partorirò in casa, partorirò in casa maternità. Semplicemente magari sta cercando informazioni su questi luoghi del parto, questo va benissimo. Ma vi invito con questo video anche a pensare proprio a dove sarete con il vostro corpo durante il parto. Sarete sul letto? Sarete su un pavimento? Sarete attaccati al vostro compagno? Sarete in acqua? Il video di oggi è tutto dedicato al parto in acqua. Vorrei farvi riflettere su tutti i benefici e i rischi di questa opzione per il vostro parto. Iniziamo con il video. Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Oggi parliamo del parto in acqua, ma non solo del parto, parleremo anche del travaglio in acqua e del perché c'è questa differenza, di tutti i rischi e benefici, pro e contro. È un argomento che mi avete chiesto in tanti e ho ricevuto moltissime domande un po' di tempo fa quando ho messo un box su Instagram. Se non mi seguite nella pagina Instagram, mi trovate con Bump2BabyOfficial, la metto qua in descrizione così mi trovate facilmente. E sono state tutte domande molto interessanti su cui anch'io stessa ho riflettuto, del perché magari queste cose non si sanno, non sono così, queste informazioni non sono così a disposizione. In questo momento stesso in cui sto registrando questo video, non so se ci sarà una seconda parte, perché l'argomento è molto molto vasto. Quindi mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, così sapete quando esce la seconda parte. Lo saprete immediatamente se attivate anche la campanella delle notifiche. Detto questo, volevo anche ricordarvi che nell'info box in descrizione trovate la mia lista Amazon per avere suggerimenti e comunque avere un po' di ispirazione su dei prodotti che potete usare nella gravidanza, nell'allattamento, per il neonato, nel postparto, cioè un po' di tutto e l'aggiorno regolarmente, così trovate cose anche che vedete, mi sentite parlare e usare nei video. Detto questo, volevo dirvi che se non mi conoscete, mi presento, sono Ilenia e sono un'ostetrica. In questo momento lavoro nel Regno Unito, faccio l'ostetica da ormai più di 7 anni e aiuto mamme a raggiungere il loro ideale di gravidanza, parto e puerperio. Fatto tutto questo preambolo sull'introduzione del video, iniziamo con il parto in acqua. Che cosa vuol dire travagliare partorini in acqua? Vuol dire attraversare il travaglio, le contrazioni, perché no anche la nascita, dentro una vasca. Perché dobbiamo fare una differenza tra l'idroterapia, che magari è quella che attuate usando una doccia, oppure una borsa dell'acqua calda. Differenziamola invece con l'immersione in acqua. Il travaglio in parte in acqua è quello che viene fatto in un ambiente abbastanza grande, in modo tale che siete coperte con l'acqua, fino al livello della vostra pancia. E questo perché? Credo che sia abbastanza semplice da capire perché l'acqua può essere d'aiuto in travaglio. In travaglio comunque stiamo attraversando un momento molto delicato della vita, in cui più o meno, chi più chi meno, comunque proviamo un certo tipo di dolore e di discomfort. L'acqua, l'acqua calda, perché il travaglio in parte in acqua va fatto dentro l'acqua, che è comunque di una temperatura che varia dai 36 gradi e mezzo ai 37 e mezzo, aiuta con il dolore. È questo il beneficio più importante. E questo è approvato da ricerche scientifiche. Abbiamo studi che ci dicono che la percezione del dolore dentro l'acqua è minore, quindi di nuovo si parla di un'alterazione nel dolore. Il dolore non sarà meno, ma lo perceperete in maniera ridotta. Gli studi scientifici inoltre ci dicono che l'esperienza del parto, la soddisfazione che si ha in generale con la nascita, è più alta in cui travagli e parti che sono avvenuti in acqua. E anche questo credo che non sia difficile da capire. Non che tutti i parti che vengono fatti sulla terraferma, per così dire, in inglese si dice on land, sono ovviamente tristi o comunque non sono soddisfacenti per la mamma. È semplicemente perché il parto in acqua ha tutta una vibe intorno a tutta un'atmosfera che si crea. In genere i parti in acqua sono tendenzialmente fatti in ambienti comunque più a conduzione estetrica, che sappiamo da ricerche scientifiche essere comunque già un fattore protettivo per il discorso della soddisfazione e dell'empowerment con la nascita. In genere abbiamo persone di supporto attorno, luci soffuse, candele, musica. È tutta un po' l'atmosfera che si crea intorno al part in acqua che fa sì che questo evento sia ancora più magico se possibile. Tutto questo ambiente che si crea inoltre non farà altro che aumentare i livelli di ossitocina, che è un ormone importantissimo per il parto, perché mantiene le contrazioni, fa sì che il nostro travaglio vada più avanti. Ma non solo, aumentando la produzione dell'uscitocina, aumentiamo anche la produzione degli ormoni del piacere, quindi le endorfine. E questo fosse di nuovo che la precisione del dolore venga ridotta e si senta meno il discomfort in generale associato con il travaglio. Inoltre in acqua sicuramente vi sentite più leggere. Immaginate comunque durante l'immersione l'acqua vi aiuta a galleggiare, a sentirvi più facile per voi muovervi in generale. Questo mi collega ad un altro punto importantissimo, per cui il parto in acqua comunque ha moltissimi benefici, ovvero il movimento è più libero. Infatti siete più comode a muovervi, comunque siete arrivati a termini di gravidanza, se siete in acqua dovete essere a termini di gravidanza, per avere un parto in acqua. Di conseguenza muovervi nella vasca permetterà di ampliare i diametri. Se non sapete di cosa, sto parlando a tantissimi video sul mio canale che parlano di questo argomento. La struttura ossa della nostra pelvi non è una struttura ferma. Le ossa della struttura pelvica, insieme ai muscoli tendini del pavimento pelvico, si muovono grazie al vostro movimento. Il bambino deve navigare attraverso questi diametri per nascere. Capite che se voi lo aiutate muovendosi, questo processo sarà sicuramente più facile. E in acqua tutti questi movimenti sono più facilitati. In acqua vi sentite sicuramente più rilassate, vi tranquillizzate appena incentrate. Non sapete quante volte ho visto mamma entrare in vasca e fare questo verso di rilassamento. Questo fa sì automaticamente che voi rilassiate tutti i muscoli del corpo, tra cui anche la cervice, quindi aiuta questo rilassamento generale, aiuta anche con la dilatazione, con il progresso, quindi con la produzione di ossitacina, è tutta una cosa a catena. Ci sono studi scientifici che ci dicono che questo porta anche a una riduzione della lunghezza del travaglio, specialmente nel primo stadio. Anche qui, purtroppo, con il Partinaco abbiamo molte evidenze conflittuali e questo ci fa semplicemente dire che ci ha bisogno di più ricerca sull'argomento, come tantissimi altri argomenti in ossitrici, sicuramente. Però questi di cui ho parlato fino adesso sono sicuramente effetti, benefici che sono provati da ricerche scientifiche. Per quanto riguarda invece la durata del primo stadio del travaglio, abbiamo evidenze un pochino più conflittuali, ma tendenzialmente, e lo vedo anche giornalmente nella mia pratica, i travagli in acqua sono un po' più corti. Di nuovo, questo non mi sorprende, perché con il rilassamento e la produzione di ossitacina questo non fa altro che il travaglio vada e proceda in maniera fisiologica. Ci sono dei momenti in cui entrare in acqua e di cui parleremo in questo video o nel prossimo, perché non sempre questo processo ha aiutato, ma generalmente il parto, poi, una volta che la mamma è rilassata, procede sicuramente più dolcemente e anche più velocemente, perché no. In acqua sicuramente abbiamo meno interventi medici. E anche questo non è facile da capire, perché siete in un ambiente comunque chiuso, in cui è difficile per noi operatori sanitari intervenire. Non fa intendetemi, questo non vuol dire che non sarete supportati in caso di emergenza, ma sicuramente c'è questa tendenza in acqua a non poter fare cose che magari sarebbero state superflue. Mi sto riferendo magari a episiotomie o a manovre interne. È difficile per noi accedere alla mamma in questo ambiente. E questo è anche protettivo per voi, perché nell'acqua proprio vi sentite più sicure, siete in un ambiente che comunque è chiuso, potete toccare i bordi, vi sentite proprio protette dall'acqua e dalla vasca stessa. E questo aiuta tantissimo anche mentalmente. Per quanto riguarda le lacerazioni vaginali, abbiamo anche qui evidenze contrastanti. Sicuramente, come vi dicevo prima, c'è una percentuale molto, molto ridotta di episiotomie. Non sembra cambiare, almeno statisticamente parlando, l'incidenza di primo e di secondo grado, sembra un po' ridurre quella di terzo o di quarto grado. E qui non sappiamo se è il perché dovuto a che ci siano meno interventi o semplicemente perché l'acqua calda comunque aiuta con la vasca di irritazione dei tessuti e di conseguenza riduce le possibilità di una lacerazione importante. Se non avete visto il video delle lacerazioni, ne parlo di tutto e di più in quella trilogia. Mi sembra che siano un set di tre video che vi linkerò qua nel video, così la potete trovare e capite di cosa sto parlando. Per quanto riguarda altre evidenze contrastanti, in generale il partore in acqua di nuovo riduce gli interventi medici, quindi riduce le episiotomie, ma come anche l'accelerazione del travaglio con l'ossidocina, c'è una riduzione molto consistente di uso di epidurali. Non potete avere l'epidurale in acqua, ma questo perché appunto l'antidolorifico che è provocato dall'acqua e dall'acqua calda sicuramente vi aiuta e quindi non avete bisogno di metodi farmacologici. Parliamo invece di effetti benefici, quali pro abbiamo per quanto riguarda il bambino. Anche qua non abbiamo evidenze scientifiche, sicuro al 100%. Sicuramente i bambini hanno un passaggio più gentile, una nascita più dolce, si dice. Questo perché vengono dall'ambiente acquatico e passano semplicemente attraverso un altro ambiente acquatico. Ricordiamoci che la temperatura del liquido amniotico è quella del nostro corpo, quindi siamo intorno a un 36 gradi e mezzo, 37, e che sarà quella esattamente uguale che troverà una volta passato nell'acqua. Quindi sicuramente è una nascita un po' più graduale. I bambini nati in acqua infatti in genere ritardano un po' a piangere. Questo non vuol dire che sono in difficoltà, semplicemente ci mettono quei 20-30 a un minuto in più magari a capire che sono nati. E questo è assolutamente normale e magari spaventa un po' da neostetrica, da ostetrica studentessa, ma è una cosa che poi ci abituì, ci siamo abituate negli anni a vedere, quindi semmo riconoscere quando è un bambino che è invece in difficoltà, da un bambino che semplicemente sta avendo una transizione molto dolce da un ambiente acquatico a un ambiente invece a contatto con l'aria e con l'ossigeno in cui deve imparare a usare i polmoni. Parliamo invece un po' dei contro sul part in acqua. Il primo contro che mi viene da dire è sicuramente che non c'è abbastanza ricerca scientifica. Abbiamo dei buonissimi studi scientifici, uno fatto recentemente anche da una mia cara amica ostetica che metterò qua il link in descrizione. Però non sono mai abbastanza sicuramente. Questo fa sì che a volte purtroppo non abbiamo risposte certe quando per esempio non raccomandiamo il part in acqua in situazioni un pochino più grigie, per esempio magari con quelle mamme che hanno una cavidenza medio-alto rischio in cui sì, alcuni posti fanno partorire o comunque travagliare in acqua e altri invece no. Questo perché non c'è un'evidenza abbastanza chiara. I criteri generalmente per entrare in acqua sono che la gravidanza deve essere sana e a termine. non ci deve essere pressione alta. La diabete gestazionale anche qui è un'indicazione un po' sicuramente nell'area grigia perché una mamma ha un diabete gestazionale controllato molto bene dalla dieta con ecografie che ci dicono che un bambino comunque di peso medio non potrebbe entrare in acqua. Questa non sta a me rispondere, però anche qua ha un po' di spunti per riflettere. Evidenze molto contrastanti per quanto riguarda travagliare o partorire in acqua quando si ha un precedente taglio cesareo, quando si è portatrici dello streptococcus di gruppo B, quando si hanno gemelli. Ci sono tantissimi, tantissimi paragrafi che si possono aprire. Dovete essere informate sui rischi e i benefici del partito in acqua e di nuovo ricordatevi che non c'è un no assoluto perché se voi siete convinte e volete farlo nessuno può dirvi di no ovviamente rimanendo nei limiti del razionalmente possibile. Quindi è questo proprio lo scopo di questo video davvero farvi capire che non c'è una regola generale e che nemmeno l'evidenza scientifica è sicura quindi perché dovrebbe esserlo il vostro dottore, la vostra estetica o la struttura in copertura di rete. Questo sicuramente è uno dei contro del partito in acqua se non rispetto quella categoria di mamma in travaglio a basso rischio e non posso entrare, magari ci rimanete un po' male o comunque vi cambiano un po' i piani se avevate deciso di partorire in acqua e guardate bene, l'essere a basso rischio è un fattore che può cambiare anche in travaglio perché semplicemente un discorso magari durante la rivelazione del battito cardiaco c'è una decelerazione fetale oppure vi si rompono le acque e c'è del meconio quindi sono fattori che possono alterare il vostro piano del partito e di conseguenza vi possono prevenire ad entrare in acqua quindi è una di quelle carte jolly che magari potete giocare o non giocare magari la vasca non è disponibile nell'ospedale magari non tutte le camere la hanno magari per tornare in una struttura in cui la vasca proprio non c'è quindi dovete usare magari altre cose come dicevo prima, la doccia, la borsa dell'acqua calda e dovete un po' adattarvi con quello che c'è e magari ci sono altre mamme che la stanno usando quindi non è disponibile magari è libera però la stanno pulendo oppure si sta riempendo e magari sorriderete quando vi dico queste cose ma sono fattori che davvero entrano in gioco perché pulire una vasca e vi dirò meglio perché deve essere pulita o riempirla comunque sono cose che magari necessitano anche di mezz'ora, un'ora quindi se la volete in quel momento il momento non è disponibile è un po' come l'anestesista per l'epidurale dovete mettere in conto che ci sono dei fattori che possono entrare in discussione e quindi dovete avere piedi piano bici e sapere cosa fare nel frattempo che aspettate il vostro antidolorifico di scelta credo di avervi dato abbastanza spunti di riflessione per questo momento il parto in acqua è uno dei quegli argomenti di cui parlerei per ore e ore quindi mi fermo qua per questo video ma di nuovo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perché continuiamo esattamente da come ci siamo fermati nella prossima parte ciao 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 ciao